Amici di Catania Pubblica, è appena terminata la conferenza stampa di mister Rigoli che precede la partita del Catania domani al Massimino contro l'Anglia. Squadra che viene da 12 risultati inutili positivi contro un Catania assai rimaneggiato le cui scelte saranno messe in dubbio fino alla fine per gli innumerevoli squalifiche prese dopo la batosta contro la Juve Stabia. Ecco, se il mister ha risposto alla nostra domanda. Mister Salvo Giuffrida per Catania Pubblica, buonasera. Buonasera. Senta, da un punto di vista puramente statistico si vede che il Catania con la coppia in difesa centrale Bergamelli-Gil ha subito pochissimo, invece quando uno dei due, diciamo, è mancato soprattutto Bergamelli il gioco difensivo ha avuto certe tipologie di lacune. Infatti solo una vittoria è stata conquistata con Bergamelli assente dal campo che è la prima contro la Juve Stabia. In che modo può influire l'assenza di Bergamelli nelle geometrie del gioco difensivo? Io penso che Bergamelli è un giocatore importante per la tenevolia, secondo me per quello che lui riesce a fare, anche per chi ha la capacità di regista difensivo, quello che ha queste caratteristiche perché ci va in arte, perché è stato creato così dal punto di vista calcistico e quindi vedendo che quando viene a mancare, vengono a mancare quei riferimenti. Bergamelli, come voi lo conoscete, quanto me o meglio di me, perché già lo scorso ha fatto 32 partite, mi sembra che ha fatto 32 partite a buon livello. Quest'anno si sta riconfermando per il valore del giocatore e quindi è indubbiamente che è un giocatore determinante per quanto riguarda la regia in difesa. Siamo al nostro commento in diretta live in dialetto e alla nostra rubrica Dozzo d'Ori per i commenti post partita. Arrivederci.